Fabrizio Caramagna, se mi guardi esisto, letto da Gabriella Marturano. Il quinto punto cardinale è l'empatia. Capitolo 1. Come una favola. Papà, mi racconti una favola? Ok. C'era una volta una goccia di pioggia che si innamorò di un albero. Provava ad abbracciarlo, a unirsi a lui, ma non ci riusciva. Un tempo gli alberi erano tronchi impermeabili che correvano per il mondo senza rami e radici. Hai la libertà, ma se un giorno deciderai di amarmi potrai mettere radici, gli disse la goccia di pioggia. E che cosa sono le radici? Chiese l'albero. Sono la conoscenza di se stessi, l'attaccamento ai principi, la volontà di costruire qualcosa di duraturo. L'albero un giorno si fermò e per amore decise di mettere radici. La goccia di pioggia poté finalmente unirsi a lui e per ringraziarlo regalò all'albero la più bella chioma di rami mai vista. Queste sono le radici, affondano nella terra, ma ti permettono di toccare il cielo, disse la goccia di pioggia. Papà, perché tu e mamma vi siete lasciati? Ci sono canzoni nel cuore in attesa di essere cantate e poesie in un barattolo vicino alla finestra che aspettano di essere liberate. Un giorno trovi la persona che ami e tutto questo succede in modo così inaspettato e sorprendente. Ogni cosa è una canzone e da ogni barattolo nasce una poesia. Poi passano i mesi, gli anni e arriva un giorno in cui tutto cambia. Io e tua madre non riuscivamo più a cantare le nostre canzoni, non riuscivamo più a liberare le poesie dai barattoli. Papà, ma se vuoi ti do io un barattolo. Vai a nanna, è tardi. Mio figlio dormiva. Io guardavo fuori dalla finestra. Notti in cui i pensieri minatori scavano e scavano senza fermarsi mai. Creano cunicoli e labirinti sparsi ovunque. Quando tu, invece, avresti bisogno di pensieri lievi, docili. Barchette di carta che ti portano dove il mare è calmo e il sonno profondo. Di notte, gli adulti pensano ancora alle fatiche del giorno. Solo i bambini si addormentano stremati di mistero.